Allora, il presente regolamento richiama il precedente regolamento approvato al commissario straordinario, il 14-15-2012, richiama nel senso che adesso non resta tempo il regolamento di una cosa del commissario straordinario, quei regolamenti devi pensare, chi sono gli nobile, chi nobile è quando devono prendere il rischio, ok? Quello resta emulare. Adesso, se con questo regolamento noi cerchiamo di stabilire quali timologi si controlli e qual è il sistema dei valzonti, faccio esempio, con tutte le parti di città, faremo se potete fare esempio, perché il comune di reti è la base, l'aere è soltanto un sistema di valzonti, comune di reti è il sistema dei valzonti, perché una sola persona o due persone potrebbero farsi uso di più. Con questo regolamento noi mettiamo in alto un sistema per coinvolgere più sociale, più organizzate, che controlla la stessa domenica del sistema, per cui sarà veramente complicato che una persona o due persone possano poi in mancini, con il più di ne, diciamo, fare le cose che sono corrette. Questo è il sistema. Ci tengo a sospettare sulla prova di stessa. Quando si crea un sistema, quali sono le situazioni di queste persone che si chiedono al tempo di questa voce? Allora, adesso non si chiede, lei si sorpetta su chi nomina e come si nominano, diciamo, i soggetti che condombrano questo che stabilisce un regolamento approvato dal commissario pubblico. E' lo stesso. Ma che posta di qui è che si nicchia, è che si importa? Ma che posta di qui è che siocca? E mi fa questo che ho fatto fatto? E mi fa questo tempo a quello suorittivo. Ma io non faccio volontà del pubblico. Io sto dicendo a vedere questa cosa. Non mi vedo a questo, non si dice che il ministero è il suo amministratore, è una modalità che è un po' di moda, 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 è un po'. Non ci si andrà a dir tellsmen, si stanno coni bênchiani, poi dice che questo non è il discorso del ministero, il ministero è il suo amministratore. dei giornalismi di valutazione o del controllo di gestione, così via, ritengo che stiamo facendo allora dice, 1, 2, questa cosa non può iniziare a sottolineare che facciamo? Prefetto, 3, sono trovato il 14 aprile del premio, se fosse stato, sicuramente, a trovare il 14 aprile del premio, sono 10 anni, 10 anni, pensiamo che qualcosa si deve fare, un modo di mangiare D carsi, 10 anni, per esempio, dei 10 anni ripetono le cose, non penso . No, non è chiaro che sono stati 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 stati